Bella vecchia da me li bentornati sul canale stiamo qui con un vlog è sempre un video speciale perchè non li facciamo mai non li facciamo mai perchè non siamo fuori non saremo mai dei vlogger questo video è un video semplice e puoi iniziare lui dicendo non lo sai neanche lui ovviamente come ormai avete capito dai vari video che abbiamo fatto ormai penso non ci sono più dubbi saremo a romics dal 9 al 12 tutti e quanti giorni tutti cazzo sono i giorni a tutte le ore se lo vedete truce cla al palio 9 stand me la godo e ci saremo insieme a tutti quanti tutti quelli della crew di me la godo siamo a tutti ho detto già tutto tutti i giorni siamo insieme siamo tutti quindi ragazzi se volete venire per farvi una foto incontrarci e fare due ghiacchiere noi saremo là tutti i giorni eeeh cosa? si noi saremo là tutti i giorni appunto eeeh 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 e oltretutto potrete anche comprare le nostre magliette che sono queste qui queste qua eh queste questa è la firma le due versioni al modico prezzo di 20 euro no 20 euro sono troppi eeeh una maglietta cioè io le pago 20 euro alla fine noi abbiamo dei costi oltretutto dandoci questi 20 euro comunque darete una mano a noi per fare qualcosa in più col canale è un investimento in più col canale è come se ci stesse facendo una donazione però comunque avete qualcosa in cambio poi facciamo i video quindi invece di fare dei crowdfunding magari in questo modo ci potete anche aiutare eeeh perché no avere anche una vostra maglietta che se vi piace appunto è una maglietta di tutto alla fine sa andate lì al negozio mi scudete l'arri morchiate ma cifra con questo che lemino che fatelo vi trovano tutte mi sta 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 incredibile e niente anche se è ritardo vi facciamo gli auguri di buona paschi o pasquitta scriveteci come l'avete passata noi l'abbiamo passata lui a letto a sbrattare perché stava a pezzi io invece a fare il silver 4 su league of legends vabbè io non è che l'ho passata ho deciso che ho preso a testa ma non è che l'ho passato a testa perché il giorno mi ero un pregato magari infatti è che non so perchè da aumentare l'altro colpio ho deciso di iniziare a vomitare anche l'anima e quindi non sto ancora tanto bene come vedete sono un po' di tono come dice sotto tono lo dico sottovoce e niente quindi sto non ho detto una altra volta di niente per me è stata una bella pasqua insomma si per lui si per me anche e te come l'ha passata? mi si sono chiuse tre vene ho tipo tre emboli che mi stavano per partire però beh è tutto a posto ma è embolo un giocatore no no è embolo proprio quello che vuoi che succede? perchè mi hanno fatto a vederare che è il bronzo? no no sono silver adesso sei silver? porco due ho un win streak del de cristo e poi vabbè ecco benissimo sbrattomi live incredibile comunque vi volevo dire una cosa che lui non sa però probabilmente cioè gliela sto dicendo anche a lui in questo momento lui è l'iphone ci scaricheremo peniscope ci scaricheremo peniscope e faremo ok ha già scaricato peniscope ee sbobbo faremo delle live a romix per chi non può venire ovviamente e gli sordi dalla connessione di te non consuma un cazzo di 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 infatti siamo andati anche oggi è lunedì però questo video andrà martedì quindi ieri per voi siamo stati in live su periscope è una figata è una figata assurda quindi saremo tipo 30 secondi vabbè in infezione qua c'è il mio periscope esattamente io no perché ho android sono un coglione eh vabbè eh no grazie vabbè niente quindi a questo punto vediamo anche e a sto punto noi recogliamo l'occasione per dirvi di seguirci su instagram su facebook sui nostri libri su facebook e basta perché non abbiamo altri social e se vi è piaciuto questo video di Facebook magari chi è scherzo tu un stunzo 94 no non è vero eh sto scherzando e su MSN voterei però è vero è vero ma che muccia MSN ma cosa vedi che cazzo è MSN vabbè vabbè niente di tutto mi raccomando romix912 tutti i cazzo dei giorni bella un paio di nuovo effetto in Milano io e oh 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 .